Palermo, ufficio cultura del comune di Palermo, ufficio cultura, le ninfe culturali, la vedete questa è una ninfa culturale, capito? È una ninfa culturale, guardate quanto è bella, perché noi ci sia qua a Palermo, a Palermo la popolazione si divide tra svedesi e arabi, lei è svedese e io adesso mi trovo qua nella sala Petrucci del favoloso Palazzo Zino, e sarò qua a tenere la conferenza mercoledì 15 aprile dalle 17 alle 19, la sala è bellina, è bella, bella, quanta gente ci sarà? Siccome siamo in Sicilia, Sicilia c'era Pirandello, che ha detto? Che ha detto Pirandello? Uno, nessuno centomila, va bene? Si spera cari amici, io qua c'ho una ninfa, vedete quanto è bella, è una ninfa culturale questa, hai capito? è una ninfa culturale, potremmo chiamarla la ninfa Egeria, Egeria, andate a vedere, Cecilia io mi chiamo, è un nome, Cecilia? Egeria, andate a vedere chi era la ninfa Egeria, visitate sul web 2.0, cari amici, io saluto tutti, vedete quanto è bella, sapete che mi ha emozionato, anche se sono vecchio, va bene cari, vi saluto tutti!